Quando vivevo in Irlanda, in questo posto, trovavo il mio desiderio di tornare a casa. Soprattutto mi ricordo che a settembre, dopo un anno di vita a Dublino, meraviglioso perché è stato forse l'anno nella giovinezza più entusiasmante di tutta la mia vita, però dopo un anno di vita a Dublino, mi ricordo che arrivò fine agosto-settembre e le maniche corte già erano passate da mesi ed era già la preparazione per il prossimo inverno e dissi And the summer? Dov'è l'estate? Praticamente era stata una primavera allungata bellissima, ma non c'era l'estate. E questo flash, questo pensiero di rituffarmi dentro l'inverno, senza l'aspettativa di un'estate che potesse asciugare tutto quel freddo, mi aveva sconcertato. Secondo, il Monte Conero, a me molto caro, una montagna sul mare spettacolare e meravigliosa dove poi in questo periodo farò delle escursioni natural english, per chi non parla inglese, e poi la pizza, cioè la pizza, cioè la pizza, vogliamo parlare della pizza? Cioè qui, se mi viene voglia di una pizza, una pizza margherita, in mezz'ora esco di casa, la vado a prendere e me la mangio. Pizza fina fina, con pomodoro fresco, con mozzarella fresca, vera. E mi ricordo che in Irlanda una volta ebbi questa voglia di pizza, ovviamente parliamo di tantissimi anni fa, magari adesso è cambiato, però mi ricordo che questa voglia di pizza andai da una di queste catene che fanno la pizza, perché c'erano solo loro, che si chiamava Godfather, il padrino, Godfather, e ordinai una pizza margherita, contentissimo. Mi ricordo che tipo costava, che ne so se qui costa 5 euro, costava tipo 15 euro, però dico, va bene, per una pizza, senza tornare in Italia me la faccio, dopodiché mi portano questa pizza larga così, anziché una normale pizza margherita che sapete tutti che larghezza ha, spessa così, avrà pesato credo un chilo, e soprattutto la mozzarella sopra era uno strato completo che copriva tutto il pomodoro. Mozzarella, che chiamarla mozzarella, mozzarella cheese, è un insulto alle vacche che fanno il lacche, e insomma, era disgustosa, pesante, orribile, very expensive, e quindi questi tre fattori, la stagione, the summer, il Monte Conero, and the pizza, soprattutto the mozzarella cheese, fecero in modo che io tornassi in Italia, quindi adesso sono in Italia, alcuni mi dicono, ma perché non ti trasferisci all'estero? Io dico, vacci tu all'estero! In Italia, guarda cosa c'è in Italia, In Italia, a fine aprile, e stanno, è stato un inverno lungo, a fine aprile, comunque alle 8 del mattino, stai a maniche corte, e dura per tre o quattro mesi, male che vada, quindi penso di fare bene il mio lavoro in Italia, anche perché voi italiani avete bisogno di imparare l'inglese, se vado all'estero, che vado a fare all'estero? Farò scemo! Qua avete bisogno di imparare l'inglese, perché c'è grosso bisogno di imparare l'inglese, per star bene qui, non per fuggire là, perché oggi chi parla bene inglese in Italia, comunque ha delle possibilità che vanno oltre la media. Io che parlo bene inglese, e anche da quando lo parlo meno bene, ho avuto delle possibilità, per esempio di lavorare in alberghi 5 stelle, che nemmeno i miei colleghi dell'alberghiero, e diplomati con diplomi da barman, eccetera, potevano accedere, perché era prevista non la buona conoscenza dell'inglese, ma la padronanza dell'inglese come lingua normale, perché lì una battuta, il cliente che fa due chiacchiere, viene sempre messa al primo posto. Quindi spero che rimanendo in Italia, possa fare un servizio ai miei amici, a voi, ai miei compatrioti, perché credo molto nell'Italia, credo che l'Italia sia un paese forte, coraggioso, ricco di inventiva, semplicemente adesso in un momento di perdizione, forse diciamolo, ma chi vuole scavalcare l'onda, non cavalcare, scavalcare l'onda del malessere, della crisi, andare oltre, secondo me oggi può, e più siamo e più l'Italia si tirerà su presto, perché la maggioranza vince. Se sia solo io che parlo inglese, faccio il figo con tutti, eccello, prendo i migliori lavori, ma l'Italia non cambia, quindi non ha veramente senso. Quello che ha senso è che tutti possano imparare l'inglese ad un minimo livello in su, da un minimo livello in su, in modo che tutta l'Italia si tiri su, e tutta l'Italia torni a fiorire come è giusto che sia, e come ha sempre fatto nei secoli dei secoli. Amen. See you on the other side.